Eccoci, nel frattempo vi posso dire che il monsiere ha già chiamato Croci e gli ha detto che la prossima darà una prima sanzione, un primo richiamo. Allora, vediamo con questa... Bastiano Sinico dovrebbe essere al terzo posto, Madonna del Piano con Simone Mereu e di rincorso, eccoli, partiti, la mossa è valida, è in testa, è in testa, la prima curva, è sempre Borgo che guida, che precede Poggio, terzo dentro, eccolo qui, è sempre primo. Il rione Borgo con Alessandro Congi, tallonato da Poggio con Adrian Topalli, ancora in testa, Borgo con Alessandro Congi, lo sta tallonando ancora Poggio, eccolo qua, un bellissimo, testa a testa, Oramai se la giocano loro due, la finale, eccolo, sta passando, sta passando, sta passando Poggio, sono allineati i due cavalli, sta passando Poggio, sì sì è passato, è passato Poggio, è passato Poggio, vince! Ha vinto, ha vinto il rione Poggio con Adrian Topalli su San Vittore, bellissima, proprio all'ultima, agli ultimi metri, Adrian Topalli ha passato il rione Borgo, con Alessandro Congi, ed eccolo il vincitore del Baglio 2018 di Bomarzo, Rione Poggio con Adrian Topalli su San Vittore, e Rione Poggio fa il bis dopo la vittoria dello scorso anno, ma anche Adrian Topalli, addirittura il primo Fantino che qui a Bomarzo riesce a conquistare tre vittorie.